La Presidente della Regione Calabria, Iole Santelli, ai sensi dell'articolo 32,3 della legge 23 dicembre 1978 e la numero 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ha adottato le seguenti misure. A chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi 14 giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, si applica la misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva. Chiunque si trovi nelle condizioni di cui appunto uno deve comunicare tale circostanza direttamente, ovvero attraverso il proprio medico di medicina generale o il pediatra, oppure telefonando al numero verde regionale 876 76 76. I Dipartimenti di Prevenzione forniscono giornalmente al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie e dal Prefetto territorialmente competente le informazioni relative ai soggetti posti in quarantena o in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva secondo il format appositamente definito. I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati per l'emanazione del provvedimento di competenza. Le società di autolinee tra l'Italia e le compagnie aeree devono comunicare l'elenco dei passeggeri provenienti in Calabria dalle zone di cui al punto uno ai Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti anche tramite i Siddaci. I prefetti delle province regionali dispongono verifiche presso le stazioni ferroviarie, aeroportuali, le stazioni delle autolinee interregionali per l'applicazione di quanto disposto con la presente ordinanza. Al Sindaco, infine, quale autorità locale di protezione civile si demanda alla valutazione circa l'apertura del centro operativo comunale con l'attivazione di almeno le funzioni assistenza alla popolazione e volontariato anche al fine di garantire la necessaria assistenza alle categorie fragili e ai cittadini sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare, nonché opportune iniziative di sensibilizzazione nei confronti della popolazione. Con successivo provvedimento, comunica la Santelli, saranno disposte ulteriori procedure operative per gli edempimenti previsti dalla presente ordinanza.